Facciamo un dinosauro? Ti piace il presiosauro? No, una pecora. Ok, ma... Hai detto che fai fumetti, no? Disegna la sua cazzo di pecora. Allora, mi guardo che c'è un problema di apprezzione che non riguarda la galera, riguarda l'atenoidi. Non devi stare scalso, mettine ciabatte, che poi ti viene mardicola, c'hai l'atenoidi! Ah ma, ma stanno in Siria! Eh, se te la pisci lì si stiglia subito che c'hai l'atenoidi, almeno ti danno i calzini di lana! Un gigante di ferro di 800 tonnellate. Certo, la domanda che ogni tanto ancora mi ronzava in testa era sempre quella. Perché proprio a te? Ma non mi fa piu' pota' niente, non vuole che mi esprima, come il padre del bigliaio. Vabbè, comunque hai detto che a noi fate bene a protestare, eh?